A monta ad oltre 400.000 euro il valore dei beni confiscati questa mattina a Poggio Imperiale in provincia di Foggia al 48enne Salvatore di Summa, volto noto alle forze dell'ordine con alle spalle reati in materia di stupefacenti contro il patrimonio e possesso di armi. Il provvedimento è stato eseguito dai finanzieri del nucleo Polizia Tributaria di Bari assieme agli agenti della questura di Foggia a seguito di quanto disposto dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Foggia. L'operazione è scattata a conclusione di una serie di accertamenti patrimoniali nei confronti dell'uomo che hanno fatto emergere una netta sproporzione tra i redditi dichiarati al fisco e i beni da lui posseduti e gli investimenti fatti tra il 2004 e il 2015. Le indagini della Polizia hanno inoltre consentito di evidenziare la pericolosità sociale del 48enne già sottoposto a sorveglianza speciale alla luce dei suoi precedenti penali e delle continue frequentazioni con pregiudicati locali. Nel dettaglio Poliziotti e Fiamme Gialle hanno confiscato tre immobili nella disponibilità dell'uomo già sottoposti a sequestro anticipato o successivamente convalidato dall'autorità giudiziaria nell'ambito delle disposizioni previste dal codice antimafia.